Il Presidente della Regione, Renato Schifani, ha ricevuto a Palazzo d'Orleans il Presidente del Lanci Sicilia, Paolo Amenta, e il Vice Giulio Tantillo. Nel corso del colloquio, al quale era presente anche il Segretario dell'Associazione, Mario Albano, sono state affrontate le varie tematiche ordinamentali e finanziarie, che riguardano il campo delle autonomie locali, rispetto alle quali il Presidente ha confermato ai vertici regionali del Lanci la massima attenzione del suo Governo. Schifani ha sottolineato come abbia preso atto che l'Ars, nella sua piena autonomia che va rispettata, ha deliberato l'aumento delle indennità dei parlamentari per adeguarle al costo della vita, in ottemmeranza una legge. Pertanto, ha proseguito il Presidente, ritengo coerente e conseguenziale che anche gli amministratori locali siciliani possa essere riconosciuto, al pari degli altri comuni italiani, un miglioramento delle loro indennità, attraverso un intervento economico che possa essere modulato in via bilanciata tra finanziaria regionale e locale. Per quanto riguarda la riduzione delle riserve del Fondo delle Autonomie Locali, il Presidente ha garantito l'impegno del Governo affinché nei prossimi mesi si possa ripristinare la dotazione finanziaria preesistente. Durante i colloqui, lo stesso Alvano è stato riconfermato segretario generale Anci Sicilia. I componenti dell'organo di governo politico dell'Associazione, designati lo scorso 31 gennaio, hanno rinnovato la fiducia ad Alvano, che rimarrà in carica fino al 2028. Durante i lavori sono stati eletti i componenti dell'ufficio di Presidenza, che sono Antonio Rini, sindaco di Ventimiglia di Sicilia, Giulio Tantillo, presidente del Consiglio Comunale di Palermo, Leonardo Spena, sindaco di Contessa Entellina, Rosanna Cannata, sindaco di Avola, Massimiliano Giammusso, sindaco di Gravina di Catania, Roberto Gambino, sindaco di Caltanissetta e Danilo Logiudice, sindaco di Santa Teresa di Riva.